Allungarsi il più possibile verso l'alto. Stendere bene le braccia. Pettorali e accorciamo dietro. In questo caso. Sono personali. Sia sull'altro sia sull'altro. Ok. Pettorali e accorciamo. In questo caso il diaframma sale e scende. E rilassate. Prestate attenzione alle vostre mani. Alle dita delle vostre mani. Ascoltate dito dopo dito le vostre mani che si rilassano. Ascoltate